Seconda giornata di mobilitazione nazionale in difesa del reddito organizzata dall'Unione Sindacale di Base. Sono 25 gli appuntamenti distribuiti su tutto il territorio nazionale davanti ai centri per l'impiego. Salari troppo bassi, politiche di sostegno al reddito che non funzionano, ma soprattutto non si tocchi il reddito di cittadinanza. Ha permesso a tantissime famiglie, a milioni di famiglie, di non sprofondare nell'assoluta miseria. Gli ha permesso di sopravvivere e non di vivere dignitosamente perché delle cifre di cui parliamo io sfido chiunque a vivere o sopravvivere con 500-600 euro al mese. Quindi è una misura che assolutamente secondo noi va rafforzata. Certo va migliorata, nessuno nascondo che ci siano state delle difficoltà, delle cose che non hanno funzionato nel modo giusto. Questo non significa depotenziare o addirittura eliminare questa misura. E nei piani di governo il progetto Goal, a cui sono destinati 4.400.000 euro del PNRR, potrebbe allargare ulteriormente il campo di azione del privato. Innanzitutto riteniamo che le cifre stanziate non siano assolutamente sufficienti. Vanno potenziati ancora di più questi centri per l'impiego e farli funzionare. Cosa che secondo una volontà politica ben precisa si è evitato di fare. Addirittura non sono stati nemmeno utilizzati i fondi precedentemente stanziati. Bisogna ribadire una volta per tutte che le modalità di collocamento devono passare per i centri per l'impiego pubblici, senza dimenticare i lavoratori migranti che più di tutti devono affrontare disagi. Parla anche il nome di migranti, i lavoratori migranti che vivono in questi paesi, che si spaccano la schiena. Sappiamo che loro fanno un lavoro di precarietà e hanno anche un salario normale. Per questo è un salario garantito per tutti, ci vuole, in questi paesi per salvare anche la nazione. Sì, dobbiamo stare per vivere senza reddito di cittadinanza come facciamo noi migranti. Anche se siamo stati anche discriminati sulla questione della reddito di cittadinanza, perché ci vuole dieci anni di residenza in questi paesi, dieci anni di lavoro in questi paesi prima di percepire il reddito di cittadinanza.